Alla luce degli altri tre casi di virus dengue registrati a Ortona, questa volta non nel centro urbano ma nelle contrade dove alvia la disinfestazione a quello di Francavilla al mare, i cittadini si interrogano sulla situazione attuale. Il virus è trasmesso come noto da una zanzara e non si trasmette da uomo a uomo. A fare chiarezza un esperto, il professor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa microbiologia e virologia della ASL di Pescara. La situazione in Abruzzo è una situazione al momento interlocutoria perché abbiamo avuto alcuni casi, non sono tantissimi, se pensiamo ai casi che si sono avuti nella vicina Fano. Fano e d'intorno sono avuto ben 120 casi, forse anche di più. Quindi diciamo una situazione interlocutoria perché la stagione con la presenza dei vettori che possono trasmettere la dengue, il virus della dengue, quindi la zanzara tigre è il vettore che la trasmette, si chiama Edis albopictus, ormai conosciamo benissimo questa zanzara. Quindi la stagione in cui la zanzara è viva e vitale e può dare fastidio sta per terminare perché poi con i primi freddi ovviamente se ne riparlerà l'anno prossimo quando si chiuderanno le uova. Quindi vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. La situazione non è assolutamente preoccupante anche perché si tratta tutti di primi casi di dengue. È una situazione che stiamo studiando, che era stata in parte anche prevista, considerando che l'anno scorso ci sono stati in Italia 150, forse pure di più, casi autoctoni. Però al momento non possiamo parlare di una malattia grave che possa creare serissimi problemi, addirittura la morte, appunto per quello che vi dicevo. Cioè il caso autoctono è una persona sfortunata che è stata appunto da una zanzara che precedentemente è appunto un soggetto con una viremia, quindi con la presenza del virus nel sangue. Professore, il virus non si trasmette da persona a persona? Assolutamente no. Com'è possibile accorgersi che si è stati punti da una zanzara tigre? Allora, tutte queste persone, in parte anche intervistate da me, non ricordano l'evento della puntura, anche perché ormai la zanzara tigre fa parte della fauna vettoriale italiana da fine anni 90 agli anni 90, quindi è una zanzara che punge di giorno, ormai la conosciamo tutti, non è un'abile volatrice, infatti spesso riesce a pungere gli arti inferiori ed è scura, più piccola della cool exp, penso che è la zanzara nostra, quella che ci punge in realtà di notte. Ora, come se ne accorge, se d'estate si ha un febbrone, nella durata di qualche giorno, con dolori articolari, osti articolari, mialgie diffuse e allora si può pensare oggigiorno anche alla possibilità di un'arbovirose. Tra l'altro, solamente nel 30% dei casi si hanno sintomi, c'è un buon 70% dei casi dove i soggetti o sono oligosintomatici o addirittura asintomatici. Non c'è da preoccuparsi? Assolutamente no, il sistema sanitario nazionale è attento, è stato attenzionato negli ultimi anni per lo sviluppo di queste nuove problematiche sanitarie e quindi al momento non c'è assolutamente da essere spaventati. Noi come centro di riferimento regionale, essendo l'unica microbiologia d'Abruzzo, ovviamente studiamo questi eventi, certe volte li preveniamo pure. Poi abbiamo la fortuna di avere in Abruzzo l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, che per l'arbovirose è il leader in Italia, per lo studio, la diagnostica dell'arbovirose. Noi siamo strettamente collegati con i colleghi medici veterinari dello zooprofilattico.